Non siamo nei pressi del centro di trasferenza della Team a Carapollo, siamo in una strada elegante del centro storico di Teramo, via Comi, e siamo sul lato opposto all'ingresso della bella sala polifunzionale della provincia, dove si tengono convegni, spettacoli teatrali e concerti. In alcuni giorni il muro dell'immondizia lasciata in strada è drammatico. Oggi c'è solo un tappeto di luridume sul marciapiede, vongole, rifiuti alimentari, cassonetti impiastrati di sporcizia. E all'imbrunire escono anche dei topi di incredibile grandezza. I residenti non ne possono più e chiedono maggiore attenzione alla Teramo Ambiente, ma soprattutto la creazione di un'isola ecologica, visto la presenza dei tanti ristoranti sulla via. Un'intervista in mezzo all'immondizia in pieno centro storico. Una cosa scandalosa, è così 24 ore su 24, tutti i giorni. Siete residenti e soffrite moltissimo. Da morire, tra l'altro quando c'erano i lavori dovevamo passare praticamente in mezzo all'immondizia. È una cosa intollerabile, lì c'è la sala pulifunzionale, serate di concerti, di cose, gente che veniva anche da fuori, che rimaneva a essere fatta vedendo il muro di immondizia qui. È veramente una cosa incivile. E fra le altre cose io da casa mia ho visto più volte dei toponi di queste dimensioni. Cosa chiedete? Che bisognerà organizzare, qui ci sono due ristoranti, tre ristoranti, bisogna organizzare un'isola ecologica, dei cassonetti chiusi, sigillati, non so, io non sono un tecnico, però bisogna fare qualcosa, è veramente scandaloso.